La polizia prosegue le indagini per individuare gli autori della rapina di sabato sera in un'abitazione della periferia di Battipaglia in via dei Vivai. I residenti della zona hanno paura, tanta l'amarezza e la rabbia. Con i rappresentanti della zona, Paolo Farabella, chiedono subito interventi per garantire la sicurezza. Non ne possiamo più. Dopo un anno e mezzo si è ripetuto la stessa cosa di questi furti in via dei Vivai. Noi siamo un po' scocciati di questa cosa perché ultimamente queste persone entrano nelle nostre case, distruggono tutto e spero che sia la polizia, i carabinieri ci seguono un po' di più perché qua non ne possiamo più. L'ultimo episodio hanno picciato anche una persona con dei mattoni, la situazione è grave, chiedete anche l'intervento delle istituzioni. Sì, è accaduto sabato sera e loro stavano mangiando, all'improvviso hanno sentito dei rumori. Queste persone dicono che sono dei marocchini e l'hanno preso pure a pietre. Non solo che rubano, ci devono fare anche del male e questo non è giusto. Ripeto, spero che le forze dell'ordine ci siano un po' più vicine. Più illuminazione, maggiori controlli? Sì, più illuminazione, più controlli. Non è che noi vogliamo dare colpa alle forze dell'ordine perché anche loro sono pochi. Insomma, avete paura? Sì, abbiamo molta paura perché ci sono bambini, ci sono persone anziane e per noi è un handicap questa cosa perché non riusciamo a gestirla. Anche un vostro familiare ha subito un furto 4-5 mesi fa? Sì, mio cugino ha subito un grosso furto, gli hanno rubato tutti gli attrezzi da lavoro e il furgone. E poi l'ha ritrovato dopo un mese, l'ha ritrovato. Comunque ci vuole maggiore sicurezza in questa strada di battipaglia e prego le forze dell'ordine vivamente tutte indistintamente di darci una mano.